E' morta in circostante ancora da determinare all'età di 25 anni P.C.S. Geldof, figlia primogenita del musicista Bob Geldof e della giornalista Paula Yates, deceduta nel 2000 per overdose. La giovane giornalista, modella, conduttrice di show televisivi nel Regno Unito è stata ritrovata senza vita nella sua abitazione di Rothan, nel Kent.